ciao a tutti ragazzi andiamo a parlare di mbappé otm giocatore del mese della liga francese questo mese appunto tocca a lui avere la carta speciale si sapeva già speravo nell'ovra 93 invece è uscito 92 quindi mi lascia un po perplessino è vero che c'è da andare a analizzare alcuni alcuni piccoli aspetti perché effettivamente è un po overprezzato ma c'è da vedere alcune alcune cosine ragazzi però come sempre il fallo cronotube mi raccomando e andiamo in game vabbè lo conosciamo cioè non è che devo presentarvi mbappé un e 82 alto in attacco basso in difesa destro destro orso quindi mossa abita 5 stelle che è debole 4 stelle il game breaker per eccellenza sappiamo che mbappé è davvero fortissimo quindi in ogni team ci vuole bappé perché è particolare questa carta perché oltre a essere attaccante può essere seconda punta quindi at ad quindi attaccante destro oppure attaccante sinistro quindi abbiamo un ruolo in più da sfruttare per libri di abilità della squadra quindi questa cosa non è male perché in tanti magari si trovano incartati con dei ruoli a s o attaccanti magari un po pieni questo mbappé attaccante destro un po può togliere dai guai oppure un'alternativa magari avete messi non vi piace più messi a destra mettete lui verissimo questa cosa è molto importante però attributi vabbè che vi devo dire velocità al cap fortissimo ottima finalizzazione quindi 94 di tiro sottoporta non sbaglia potenza di tiro e non è altissima però è molto alta quindi va benissimo i passaggi sono relativamente il punto debole di mbappé ma come come sempre non vi racconto di nuovo seppur il corto sia 88 occhio al lungo 74 davvero davvero pessimo però va bene dribbling 93 fortissimo sotto il punto di vista del dribbling abbiamo agito a 94 contro il pantone insomma palla al piede si fatica a togliere vabbè non ripeto è scontato è scontato difesa chi se ne frega fisico 77 ovvio che abbiamo una forza abbastanza bassa e aggressività abbastanza bassa di rinnovazione però su quello possiamo anche passarci sopra il vero problema è quanto ci costa questo mbappé 10 sbc le prende due no sono tutte interessanti tutte alte dall 85 in su cavolo è caro perché è caro costa uno quasi due milioni sono 1,9 milione di potiemme che rischiamo che magari il mese prossimo esca ancora potiemme mi esca ancora in versione giocatore del mese ma io eviterei nel senso non ha non ha senso non sbloccare questo mbappé forte è vero vero veramente forte ma se andiamo a vedere in pratica rispetto all'if ha solamente un più uno in passaggio e un meno uno in fisico vabbè vabbè no ragazzi non ha senso allora ha senso solamente se adesso che stai spacchettando miliardi di carte non avete mbappe base non avete mbappe if o avete pochi crediti e non sapete dove buttare nello scambiabile buttateli in lui ovvio fortissimo se lo fate a zero ha senso se dovete investire 2 milioni no se invece appunto lo pagate facciamo mettiamo un tetto massimo 300k 400k ci può stare non di più perché non è rivendibile quindi il momento in cui l'oro calerà che ovviamente piano piano i giocatori di oro calano non possiamo rivenderlo è vero che ve lo portate avanti comunque per un po' di tempo però non investici troppi crediti allora ripeto avete tanti non scambiabili adesso doppi trovate doppi allora sì buttateli dentro lì e via cioè ci sta pertanto con i toti avete sicuramente spacchettato tantissimo io stesso ho fatto zidane praticamente a zero solamente con i due pioni che ho trovato ieri durante lo spacchettamento dei toti zero toti però ho fatto l'icona ho fatto zidane ho fatto un pezzo di pogba e ho fatto anche altra roba quindi diciamo che facendo riciclare un po' girare un po' le carte riciclate sull'sbc le cose interessanti ci sono da sbloccare questo è un bappé ma forte va benissimo però se avete un minimo di potere economico piuttosto puntate il 93 che adesso è trovato bello alto però a breve secondo me riuscirete un po' dai vendendo l'oro che sta perdendo un po' sta risalito leggermente risalito quasi 800 beh mica male avete messo via un po' di soldi riuscite a vendere l'oro a prezzi buoni puntate il 93 o puntate l'if 1.720.000 che comunque lo potete rivendere quindi in quel caso qua questo qua il potere non ha senso se invece lo fate praticamente a zero appunto con i doppioni eccetera ha dei svc fate bene a farlo assolutamente game breaker non si può dire che è una brutta carta anzi veramente forte e che ovviamente se si ha potere economico è insensato andare a spendere questa cifra per uno scambiabile lasciate perdere piuttosto vi comprate l'if giocate con l'oro tra l'if e oro non cambia nulla sono proprio minimi dettagli quindi evitate ragazzi fatemi sapere se l'avete sbloccato meno vi ripeto ma secondo me ha poco senso comunque come al solito follow youtube mi piace al video ci vediamo al prossimo filmato ciao a tutti